Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fa ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d'arte, ma tu sei solo coltivare invidia, ringrazia il cielo, sei su questo palco, ringrazia chi ti ci ha portato dentro, ma questo sono io. Che succede ragazzi? Perché rispolvero questo classico, questo evergreen? Perché? Come avete detto dal titolo, un po' provocatorio, sì, è anche un po' clickbait, così voi cliccate sul video, ve lo vedete, ve lo vedete tutto, perché ho da dirvi un paio di cose, facciamo tre cose. Cercherò di essere quanto più sintetico possibile, anche se la sintesi è qualcosa che non mi appartiene e già lo sapete. Perché faccio questo video? Vuole essere una chiacchierata tra amici, tra voi e me. Perché? Da quando è scoppiata questa pandemia, sembra essersi moltiplicata, a parte dell'analfabetismo funzionale che sta esplodendo, ma si sono moltiplicate le fake news, i compiottisti. La gente sembra non pensare ad altro che, ma il governo che fa e non ce lo dicono, eccetera, eccetera. Ed io, pur essendo, diciamo, smaliziato, anche pur essendo smaliziato, perché è tanto che sono sui social, lo sapete, quindi non so distinguere una fake news piuttosto che da una notizia da un troll, eccetera, eccetera, però anch'io cado in questo meccanismo. E che è successo, già lo sapete, più di una volta, perché ho condiviso qui su YouTube dei video sul sociale, tra virgolette. Ecco, io penso che anche andando contro gli interessi del canale, perché poi quei video fanno sempre il boom di visualizzazioni, mi rendo conto che magari parlando di un argomento ormai del hit come il fumetto, anche se vorrei anche ampliare un po' il discorso all'arte, che è qualcosa che mi interessa molto, anzi adesso vi faccio vedere la mia ultima creazione. vedi, già sto andando off topic, già sto facendo quali peggarici. Questa è, non so se si vede, è una tela grande che ho realizzato, vabbè sì, sto facendo un casino. Vabbè, mettiamo l'acqua dietro, così magari. Ecco qua, mettiamo l'acqua. Allora vi stavo dicendo, voglio anche introdurre, e l'arte perché, l'arte della pittura perché fa parte del mio mondo. Mi sono convertito allo sticazzismo. Sì, ragazzi, voglio diventare zen. Ho deciso di, dopo il milionesimo messaggio, su Facebook, di politica, di odio, di rancore. Ma che cazzo stiamo diventando, ragazzi? Cosa stiamo diventando? Una volta eravamo conosciuti per essere il paese davvero, un paese di navigatori, di poeti, di artisti. Adesso cosa stiamo diventando? Cioè, il nostro pensiero fisso è solo, solo, sempre, sempre quello. Io vorrei, quindi, andare controcorrente e, diciamo, abbracciare questa filosofia dello sticazzismo. Cioè, il 5G, vi faccio un esempio, il 5G causa il coronavirus, non ce lo dicono, e sticazzi, è così, liberatorio. Quindi, ragazzi, ripetete con me. E sticazzi, oh, bellissimo. Questo, questa è la filosofia dello sticazzismo. Da oggi in avanti, sul canale, cercherò di impegnarmi, troverete sempre, solo, video sticazzisti. Tranne, naturalmente, per quanto riguarda il fumetto, perché continuerò sempre a dire la mia, senza complottismi, naturalmente, e senza peli sulla lingua, soprattutto. E qui, poi, arriviamo a un piccolo focus che volevo fare su una nuova uscita. Anzi, vi do due notizie su delle nuove uscite. Una è un consiglio e l'altra è un... Passiamo prima alla seconda comunicazione. Vabbè, la prima è questa qui. Sul canale, vorrei, troverete anche altre cose che sono inerenti sempre alla non-arte, ma non solo alla non-arte, anche alla prima, alla seconda, alla terza, alla sesta, la nona, come scriveva Ortolani, il tango con... No, la non era la nona, era la sesta, il tango con la scimmia. Quindi troverete anche altro materiale, sperando che... Sperando di portare sempre contenuti interessanti su questo canale. Naturalmente consigliatevi e, novità, che poi non è una novità, ve lo dico sempre, vi rompo le balle sempre con questa cosa, potete partecipare anche voi. Partecipate attivamente alla soffitta di Pippo con i vostri video. Aspetto i vostri video. Mandatemi i vostri video. Partecipate anche voi. Create da voi il canale che vorresta. Questa è la prima... Scrivevi, la gesticola sempre molto, lo sapete, mi prendo una cosa in mano. Ecco qui, di Landon. E, diciamo, questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione qual è? Allora, ci sono delle nuove uscite, sono previste le nuove uscite. Allora, una esce il 20 di questo mese e vi consiglio di prendere, io sicuramente la prenderò se riesco a trovarla qui a Lecce, l'edizione IF sta ripubblicando Jesus. Di Jesus vi ho già parlato in un video, però in quel video si chiamava Colt, perché questo personaggio fu pubblicato da Lorenzo Barbieri negli anni 90 con il nome di Colt. È un personaggio western, una serie western molto, molto interessante che a me personalmente è piaciuta tantissimo e vi consiglio di recuperare. Un'altra uscita che mi fa davvero, davvero storcere il naso è il nuovo Old Boy, di Landon Old Boy, che porta uno strillone in copertina con su scritto, cioè sembra la balzelletta, però è vera questa cosa, e il Dylan Dog che avete sempre amato. Cioè praticamente, non lo so, è come se fosse un'ammissione di coach, cioè quello sulla regolare è una cagata, cioè ammissione degli stessi autori a questo punto, perché se tu mi scrivi su una testata parallela che la fai entrare in competizione con quella principale scrivendo che quello è il Dylan Dog che il pubblico ha sempre amato, non lo so. Fate pace con il cervello in redazione Bonelli, mi raccomando, in redazione Dylan Dog, perché io questa cosa non l'ho capita. Comunque sarà bimestrale e avrà due storie e costerà il doppio di Dylan Dog, quindi diciamo è come se fossero, è come comprare i due numeri insieme. Vabbè, mi fermo qui e su questa cosa mi fermo qui, non mi pronuncio oltre, perché naturalmente non posso fare un processo alle intenzioni senza averlo detto, non è nel mio stile, questo lo sapete, però aspetto ai vostri commenti. Cosa ne pensate di questa iniziativa, di questa bellissima iniziativa? Ah, e ricomincerà dal numero uno, quindi. Personalmente mi sembrano le solite trovate a chiappa lettori. Così c'è lettori in inglese? Trovate clickbaiting, clickbait. Questa è la prima, la seconda notizia era questa, su queste uscite. Quindi, ok, ho fatto confusione. Quindi ragazzi, vi saluto, questo è stato un video giusto per mettere un po' un po' d'ordine nei miei pensieri e coinvolgervi, perché mi piace coinvolgervi queste, mi vengono le idee, quasi quasi accendo la camera, faccio un video e ve le comunico. Queste sono le mie idee su quello che sarà il canale, su quello che è il canale che vorrei che fosse, vorrei che fosse, vorrei fosse il canale. è lo sticazzismo, vedi che sto trasudando sticazzismo da tutti i poli. Io non mi pronuncerò su queste conversioni che fanno tanto incazzare la gente, no? Certo, quando uno può in cacere si converte al cristianesimo si dice che è stato salvato, poi se si converte in un'altra cosa è stato, non so, è stato toccato da Sara. Ragazzi, un po' di coerenza, ma non ne parlerò, non ne parlerò più. Basta tutto il la montagna di bip fumante mi ha davvero CLC. Vedi, in diretto in eccese cosa vuol dire CLC. Ciao ragazzi, alla prossima.